Giro, giro, dondo, guarda che bello il mondo, casca la terra e tutti giù e terra. Giro, giro, dondo, guarda che bello il mondo, casca la terra e tutti giù e terra. Ho sognato un mondo impossibile, un mondo dove i bambini potessero crescere risparmiati della violenza, della fame, della guerra. Ho sognato un mondo di utopie, dove i bambini potessero crescere lontani dalla violenza e vicini al calore del sole. Quando mi sono svegliato, ho deciso che quel sogno non era impossibile. Ciao, sono Piero Chiambretti. Ciao, sono Alessandro Nesta. Ehi, ciao, ma che è? Ciao, sono Fabio Camminare. Sono Nicola Piedenchi, di Siamo al Bimbo One. Ciao, sono Filippo Inzaghi. Sono il Principale Alberto per l'emissione Bimbo One e non so cosa dire altro, se neanche Franco Nero è il più grande. Gira, gira, gira con la tele, se la trovi sono sicuro che ti può aiutare, se tu stai su, gira, gira, gira con la tele, altrimenti tu non sai dove può arrivare. Allora ok ragazzi, sentitemi un istante, sappiate che la musica è la cosa più importante, infatti basta notte per darci un po' di ritmo. E allora gira e mi rigiro, gira, 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 torno. Sono Dino Zoff, sono Andrea Migardi, sono Francesco Toglio. In missione Bimbo One, sono Andra. Ciao, sono Demetro Albertini. Ti amo i ragazzi italiani. Ciao, sono Dino Fuser, sono Zeglio Vicini. Ciao, sono Francesco Vecchi, sono Enrico Sacchi. Ciao, sono Gigi Buffon. Sono Cristian Vieri. Ciao, sono Dino Baggio. Ciao, sono Clarissa Bartoli. Ciao, sono Paolo Donolis. In missione Bimbo One, Dino Patrono. Presento Girotondo Rep. Giro e rigiro questo girotondo, quanto è bello, sai che bello il mondo, finisce infine come giusto ogni guerra, e allora dalla gioia tutti giù per terra, e allora giro e rigiro questo girotondo, che confusione in questo pazzo mondo, favole di pace e non certo di guerra, e allora tutti insieme, tutti giù per terra. C'era una volta un uomo, e dentro all'uomo c'era un bambino. E dentro al bambino c'era un sogno, e dentro al sogno c'ero io, che urlavo contro la guerra, contro la fame, contro il dolore di chi non è mai nato, o non è mai capito crescere. Senti che la vita è dura come un girotone, gira e rigira e ricomincia da cazzo, sembra non finire male. Adesso vuoi cantare, suonare, recitare, scherzare, puoi dire e puoi fare, ci siamo noi, piccolo amico mio. Ciao a tutti, sono Sabrina Salerno. Ciao a tutti, sono Danny. Sono Vittorio Gasmo, e adorisco molto volentieri alla missione Bimbo One di Franco Nero. Ehi, ciao, sono Maria Grazia di Snotta. Ciao, sono Corinne Clery. Sono Massimo Renieri. Sono Marina Dall'Aunta. Sono Vittorio Storaro. Amici, sono Fred Boulguss. Sono Zedio Di Francesca. Sono Roberto Zaccaria, Presidente della RAI. Adorisco alla missione Bimbo One. Giro, giro, giro con Go Run. Giro, 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 questo pazzo mondo. Giro, 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 come un girotone. Giro, giro, giro con Go Run. Giro, giro, giro con Go Run.